Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io e in questo video vorremmo mostrarvi un bug che riscontra tutte le scelte da Shanghai Praticamente si tratta di un ascensore invisibile che si può riscontrare solamente dopo aver fatto crollare il palazzo appunto di questa mappa Il bug si può solamente effettuare quando il pulsante dell'ascensore che sarà per terra è verde e se è rosso non si può fare Adesso qua l'ho scontato perché mi sono immobilizzato, guardo per terra e vedo il pulsante ancora disponibile per l'utilizzo Si sente anche il rumore dell'ascensore che va su e tutto da un tratto si ritrova in aria, così a caso Io lo trovo molto utile questo bug perché se non si vuole, si può camminare per ore e ore nella mappa, si può utilizzare questo E se siamo a posto Quindi ragazzi, io spero di essere stato utile Se lasciate un mi piace, condividete il video e iscrivetevi al prossimo video